Meggiugori, la presenza di Maria, il nuovo mensile dedicato alla Madonna. Telefona ora al numero gratuito 800 144 336 e prenota il tuo abbonamento annuale e ricevi comodamente a casa tua i 12 numeri della rivista, solo per te oggi. Se chiamerai con il primo invio, compreso nel prezzo, riceverai il calendario della Regina della Pace, un esclusivo CD con le più belle canzoni dedicate a Maria e la coroncina del rosario in cristallo di color acqua marina. Tutta questa offerta commerciale avrebbe un valore di 74 euro, invece solo per te. Avrà un costo di 45 euro più spese di spedizione. In più, se sarai tra le prime 100 telefonate, abbiamo riservato un altro omaggio, il bellissimo portachiavi di Meggiugori. Regalati o regala l'abbonamento per un anno al prezzo imbattibile di 45 euro. Chiama subito, prenota per ricevere a casa tua ogni mese e senza ulteriori spese i 12 numeri della rivista Meggiugori, il calendario, l'esclusivo CD, la coroncina del rosario e per le prime 100 telefonate i portachiavi di Meggiugori. Chiama ora 800 144 336 e vivi la presenza di Maria.